Oggi siamo al Passo del Sempione e ci apprestiamo a salire il Brighton e quali sono le vostre previsioni per la giornata, arriveremo sulla cima? Se le articolazioni lo vogliono. Abbiamo un problema articolare, abbiamo problemi nervosi forse, nervosi e il motto di oggi è può solo migliorare. Siamo pronti per raggiungere la cima. Che ore sono? 6 e mezza. Quindi arriveremo su 10 e mezza 11 con un sole che spaccherà il culo. Come va? Tu in quanto esperto pestatore di Fiocca? Oggi è il tuo terreno eh? Siamo a quota 2850, ottima visibilità, visibilità ottima, condizione ideale ma tra un'oretta avremo uno spettacolo dalla cima. Siamo a quota 3.300 metri. Fa un po'. Temperatura ottima, Sì sì, è piacevole. Non tanti canali di Fabio. So che spettacolo. Siamo quasi arrivati sulla vetta del Brighthorn. Non sembra, ma siamo sul il Brighthorn. Finalmente è ormai a gita conclusa. Ci sono dei miglioramenti meteo. Da lì si vede briga. Ma Grazie a tutti